Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Scandici e Firenze Impruneta. Per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, domani notte in orario 22.6 sarà chiusa l'entrata di Valdichiana in direzione Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Monte San Savino. Sulla strada provinciale 11, Pisana per Fucecchio, senso unico alternato per restringimento della carreggiata dal chilometro 4.500 al chilometro 8.500 nel comune di Cerreto Guidi, fino a giovedì in orario 8.19. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!